Dopo la vittoria nel confronto diretto contro il San Giovanni Calcio 5 ed il sorpasso con lieve di stacco inflitto anche al Geraci, per la futsal Terra Novese si presenta ancora una gara con chi vive simile condizione in classifica. Dato che venerdì sera c'è la trasferta sul campo della Lastregiana, squadra che è passata in un solo anno dalla parte altissima della graduatoria alla piena zona play-out. Con 18 punti massimi da ottenere in casa bianco-rossa il traguardo è adesso nel raggiungimento di una delle due posizioni play-out, almeno con il vantaggio del campo. E appunto questo passa anche e soprattutto da una vittoria con chi precede in classifica, anche se è bene ricordarlo la Lastregiana che ha 4 punti di vantaggio non è ancora portata del semplice scontro diretto. Gli avversari del turno non hanno nomi particolari tra i marcatori, nessuno è oltre sei reti personali in un campionato nel quale, ad esempio, lo stesso Gianni Celli, protagonista contro San Giovanni a quota 13. All'andata successo, Terra Novese per 4-2 da allora, un impasse che si è sbloccato solo recentemente per la futsal. Lo sprint per la salvezza è comunque lanciato anche qui.